In apertura di questo corso vi ho già anticipato che i due principali strumenti pubblicitari che possiamo utilizzare per promuovere i nostri libri su Amazon sono le campagne Sponsored Products e le campagne Sponsored Brands. Delle prime abbiamo già parlato, ci rimane da descrivere le seconde e lo faremo in questa lezione. Le campagne Sponsored Brands sono utili quando vogliamo promuovere più libri di uno stesso autore con un unico annuncio pubblicitario. Per iniziare questo tipo di campagna dobbiamo selezionare l'opzione Sponsored Brands, quindi clicchiamo sul tasto Continua e dobbiamo inserire le principali impostazioni della campagna in maniera esattamente identica a quanto abbiamo già fatto allora quando abbiamo inserito le opzioni per la campagna Sponsored Products. Quindi bisogna assegnare un nome alla campagna, ad esempio posso inserire il mio nome come Brand. Posso eventualmente, opzionalmente, assegnare un portafoglio per la campagna, vedremo più avanti di cosa si tratta, possiamo inserire una data di inizio e una data di scadenza, meglio ancora se lasciamo la data di scadenza libera e un budget giornaliero. Dobbiamo quindi selezionare da questo elenco a discesa uno dei nostri autori e dopodiché potremo scegliere i libri dell'autore che vogliamo inserire nella campagna pubblicitaria. Con lo Sponsored Brands abbiamo la possibilità di inserire tre diversi libri in un unico annuncio pubblicitario, per cui possiamo selezionarli da quelli che vediamo in questo campo. Ad esempio, io voglio fare un annuncio pubblicitario per il mio brand, il mio autore, che sono io stesso in questo caso, selezionando tutti i libri che ho realizzato dedicati al vendere su internet. Per cui seleziono il primo libro, che riguarda la vendita di servizi su internet, il secondo libro, che riguarda la vendita tramite dropshipping e il terzo libro, che riguarda la vendita di artigianato su internet. Sono tre libri su un argomento simile, tutti e tre realizzati da me. Quindi tutti e tre realizzati dallo stesso autore. A questo punto Amazon creerà una landing page, ovvero una pagina di atterraggio verso la quale indirizzeremo gli utenti che cliccheranno sull'inserzione pubblicitaria. Possiamo vedere un'anteprima della landing page, cliccando su questo pulsante. Come si può vedere, abbiamo i tre libri che ho messo in promozione e si vedono anche in basso con il primo libro che compare per primo, ma volendo si possono vedere anche gli altri cliccando su ciascuno di essi. Ritorniamo indietro. Scendendo ancora più in basso, abbiamo la possibilità di personalizzare in parte il contenuto creativo di questa inserzione. La prima cosa che possiamo fare è inserire un'immagine del profilo dell'autore. Posso quindi andare a modificare questa immagine inserendo un mio logo oppure una foto profilo. Nel mio caso voglio che compaia una mia foto che ho già inserito nelle risorse di Amazon, per cui posso semplicemente selezionarla ed applicare il cambiamento. Come possiamo vedere qui sulla destra ho un'anteprima di come apparirà il mio annuncio in versione mobile. Cliccando su questa freccetta a destra posso invece vedere come apparirà l'annuncio sul desktop. Ok, posso tornare indietro. Un'altra cosa che posso fare una volta ritornato indietro è modificare l'ordine di comparizione dei prodotti. Per esempio, posso scegliere di far comparire per primo questo libro e quest'altro libro per secondo. Infine, posso inserire un titolo dell'annuncio. Questa è una sorta di slogan che posso associare ai libri. Ad esempio, nel mio caso posso scrivere vendi online qualunque cosa. Dopo aver dato una rapida occhiata all'anteprima posso passare oltre. Per quanto riguarda le opzioni successive non mi soffermerò molto perché sono le stesse identiche opzioni che abbiamo già visto quando abbiamo parlato delle sponsored products. Quindi abbiamo il targeting per parole chiave oppure il targeting per prodotto. Se selezioniamo il targeting per parole chiave possiamo scegliere delle parole chiave che inseriremo noi sotto forma di elenco, caricare un file oppure optare per le parole chiave suggerite che in questo caso, come possiamo vedere, sono molte di più perché sono tre libri diversi e quindi Amazon ha molti più dati. In realtà sono molti dati, potremmo già contentarci di questo elenco perché è piuttosto lungo. Oppure possiamo selezionare il targeting per prodotto e come abbiamo già visto si tratta di selezionare una categoria o dei prodotti singoli tramite Asin. Anche qui abbiamo la possibilità di scegliere tra offerta suggerita o offerta personalizzata, quindi accettare i suggerimenti di Amazon o scegliere noi un'offerta per ogni singola parola chiave. Anche qui possiamo selezionare la strategia di offerta per parola chiave generica a frase o esatta. Ipotizzo di lasciare tutto come si trova per impostazioni default e aggiungo tutte le parole chiave suggerite che come già detto sono già tante, sono 297 parole aggiunte. Per completare la campagna posso inserire un targeting per parole chiave negative come abbiamo già visto, non lo faccio per semplicità e per finire posso cliccare su questo pulsante per sottoporre la campagna a revisione e terminare. Dopo aver cliccato su questo pulsante, nell'arco di poche ore Amazon farà la verifica e se sarà tutto a posto mi invierà un messaggio per dirmi che la mia campagna pubblicitaria sarà online.